Cari amici siamo qua per scegliere delle emoji sui miei compagni che non sono facili ora così a prima acchietto mi viene a conoscere tutti che è questa qua che è Brozovic però vi darò anche questa questa qui per lui chiedete perché che lo batto sempre a ping pong sempre veramente non vince mai allora questo qui ne andiamo a Brozovic poi potrei eccola qua questa qua questo biberon lo diamo ad Andrea Ranocchia che da pochi mesi è nato il primo figlio so che lo fa dormire tanto la notte sempre bello riposato la mattina quindi questo biberon lo diamo ad Andrea questa queste emoji qui che allumino con la sua forza incredibile la do a Rajan Angolan che credetemi che ha una forza devastante è veramente una bestia poi vediamo un pochino scegliamo un po che mi viene in mente potremmo mettere questa al nostro esterno politano che è una freccia va come un treno e poi allora come ultima potrei prendere questa qua queste emoji qui e questa la diamo al professore Borca è la sapienza la saggezza sempre sa sempre cosa dire al momento giusto